Nuovo scandalo nella sanità tedesca. Altri tre medici sono stati sospesi per avere alterato le analisi dei propri pazienti in modo da accorciare i tempi di attesa per il trapianto di organi. Si tratta del direttore della sezione trapianti dell'ospedale di Lipsia e di due assistenti. La falsificazione riguarderebbe 25 persone.